Un evento, una manifestazione importante che fa meglio da spartire acqua all'inizio della stagione estiva qui a Rosetta? Assolutamente sì, un evento che porta migliaia di persone dislocate un po' su tutta la costa terramana. Quest'anno, anche con tante difficoltà, il presidente Cerasi è riuscito nuovamente ad organizzare la manifestazione. Noi gli siamo vicini, nel limite delle possibilità dell'ente, però in ogni modo per cercare di risolvere tutte le problematiche che si potranno venire a creare. Una manifestazione che sarà anche da supporto per alcuni paesi limitrofi? Assolutamente sì, gli impianti a Rosetta non è nascosto, nel senso che hanno e sono oggetti di interventi, quindi la capacità dell'ente di contribuire con gli impianti quest'anno è ridotta, il prossimo anno sarà sicuramente più ampia, inaugureremo, immagino, il campo di Santa Lucia nel quale potranno finalmente giocare anche in erba sintetica, cosa che a Rosetta non era possibile fino a quest'anno. 23 anni è un traguardo importante, ci prepariamo al Silver Jubilee, nel senso che contiamo di arrivare a 25. È stata dura anche quest'anno perché quello dei tornei ormai è un mercato inflazionato al massimo. Considerate che dieci anni fa c'eravamo solo noi in Abruzzo, adesso abbiamo solo nella nostra zona cinque tornei giovanili in contemporanea. Capite che è molto difficile poi trovare, però diciamo che il nostro ormai è collaudato, la gente ci conosce per tutta l'Italia, anche all'estero, e quindi le persone vengono a Rosetta ancora molto volentieri. Quest'anno abbiamo raggiunto la bellezza di 150 squadre che è un record assoluto per spiagge d'Abruzzo Cup. Possiamo, dall'anno scorso contiamo su un apporto importante perché da sole chiaramente non ce l'avremmo potuto fare a livello organizzativo, contiamo sul supporto di un'associazione di Roma che si chiama Sporting Tour con il presidente Giampaolo Morsa che cura come ha fatto l'anno scorso in maniera eccellente, devo dire, tutta la parte tecnica, quindi tutta la parte logistica, arbitri, i campi e ovviamente sicurezza sui campi viene curata da questa organizzazione che chiaramente si affianca alla nostra con i nostri. Ma è uno staff molto importante perché quest'anno raggiungiamo le 100 unità, insomma mettere insieme 100 persone non è facile, ma solo per la parte organizzativa.